e meno male che luca c'è ragazzi vi voglio invitare a venire tutti quanti il primo dicembre al teatro barone di melito ore 21 a vedere lo spettacolo dei miei amici luca sepe raffaello pazzo e meri esposito lo spettacolo si chiama luca c'è spettacolo show comico musicale di lello marangio e luca sepe ovviamente ringrazio anche il mio amico lo zorgere svapo perché senza di lui non so come avrei fatto quindi non mancate perché luca sepe vi aspetta in moltissimi a teatro il giorno primo dicembre ah mi raccomando affrettatevi perché i biglietti stanno terminando ciao e meno male che luca c'è